Siamo appena arrivati da Oristano, dove in questi giorni la nostra unità di emergenza è intervenuta in soccorso di numerosi animali che hanno subito conseguenze a causa del grave incendio che ha colpito quella zona. Con noi abbiamo un primo piccolo gruppo di cani che abbiamo preso in carico. Sono dei cani spaventati che hanno vissuto un'esperienza molto forte e hanno subito conseguenze fisiche delle ustioni alle zampe in modo particolare. Adesso li portiamo in un rifugio di nostra fiducia e lì continueremo a prendercene cura, a curarli fisicamente, a socializzarli con l'obiettivo di proporli in adozione. La famiglia possa adottarli e far dimenticare loro l'esperienza che hanno vissuto.